e allora ciao famiglia ciao a tutti come va tutto bene prosegue bene stare a casa però cerchiamo di mangiare poco perché altrimenti ci allarghiamo e allora per chi non avesse le mascherine io ho inventato un buon sistema semplicissimo ma funziona e allora per queste lo sapete cosa sono sono i pannolini classici per le donne no no per noi perché noi no no noi no 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 e allora non facciamo pubblicità alla marca e allora prendete un pannolino di questo qua giusto quando avete aperto questo pannolino a questo punto mettete un pochino di adesivo qua 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 e qua a questo punto la procedura è semplicissima guardate uno due e vai e la mascherina è pronta dice ma non ce n'è in farmacia che se ne frega tanto noi ce l'abbiamo quindi fatelo funziona non solo ma si è molto elegante sembra che somiglia a quello che vende cristian di orro o picco pallino sembra una mascherina di gucci ciao ciao avete capito com'è il discorso poi lo staccato e torna tutto alla normalità poi lo staccato e nuovamente vedete lo rimettete ancora una volta va bene penso penso che si possa risolvere il problema buon pranzo a tutti ciao famiglia ciao ciao